Musica Con il numero 3 Luigi Gipo, con il numero 8 Alessandro Ovesti, con il numero 5 Giuseppe Aquino, con il numero 6 Alex Marini, con il numero 7 Giordano Napolano, con il numero 8 Gianluca Compagni, con il numero 9 Henry Sciva, con il numero 10 Tagliere Cantazzi, con il numero 11 Nicola Sporgione. Faccio la campione del Tropico Gipo, con il numero 2 그런데, con il numero 7 Guardi. Con il numero 6 Matteo, con il numero 7 Guardi, con il numero 6 Guardi, con il numero 11 Guardi, con il numero 8 Guardi, con il numero 8 Guardi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!